Che cos'è un blog letterario? Come si svolge un festival dedicato ai blog letterari? Queste sono alcune delle domande che l'organizzazione di Chilit, il primo festival dei blog letterari in Europa, si sente rivolgere più spesso. Per questo, a inizio aprile, ha preso il Via Micro Festival in Tour, una serie di otto incontri nelle principali città italiane, in cui verrà data una micro dimostrazione di ciò che accadrà il 7 e l'8 luglio. Le date del festival la tiene. Ogni tappa ospita una tavola rotonda, su uno dei temi del festival a cui vengono abbinate anche delle attività artistiche ed intrattenimento. Il risultato è una serata che incarna lo spirito di Chilit, un festival aperto a tutti, interessante non solo per critici letterari, scrittori o appassionati di letteratura, ma per chiunque voglia trascorrere del tempo in modo inusuale, avvicinandosi in modo divertente alla cultura. Il 9 maggio si è fatta tappa a Firenze, il caffè letterario Le Murate, tema della tavola rotonda, scuola e accademia, dal titolo Rapporto fra critiche letterarie e scrittori, cortocircuiti e degenerazioni. Sono intervenuti Alessandro Raveggi, scrittore, ricercatore e docente di lingua e cultura italiana. Vanni Santoni, scrittore, giornalista e cofondatore di scrittura industriale collettiva. Ad accompagnare la tavola rotonda Le Murate e Sprigionate, mostra fotografica di Domenico Iuliano, raccontata dall'autore stesso, a rappresentazione dell'attività artistica, in questo caso dedicata all'arte fotografica, che in Chilit verrà sempre affiancata alle attività dei blog letterari, in un costante mix di letteratura, arte e cultura. Al progetto Chilit è stato assegnato il premio Città Impresa 2012, promosso dal Corriere della Sera ai nord-est Europa, per il contributo portato attraverso la sua attività creativa allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e dell'intero paese. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio